Filippo Neviani in arte NEC alla Summer Arena di Soverato per l'unica data in esclusiva regionale del tour Unici. Nella struttura della SM Musica di Maurizio Senese è realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Soverato un'altra notte straordinaria sulle note degli indimenticabili successi dei 25 anni di carriera dell'artista. Fino alle hit più recenti e ai brani del suo nuovo album che dà il titolo al tour Unici. Sul palco ad accompagnare NEC, Emilio Fantuzzi alla chitarra e alle tastiere, Luciano Galloni alla batteria e percussioni, Chico Guzzoni alla chitarra, Lorenzo Poli al basso. Un concerto che è stato un crescendo di emozioni a vent'anni dal successo di Laura Non C'è, NEC riesce ancora a trascinare il suo pubblico e a farlo divertire. Tra un brano e l'altro qualche riflessione e l'invito a godere delle cose semplici della vita. Rossella Galati per la CNews 24.